Cyberbullismo. Approvato in Consiglio regionale un protocollo d'intesa per l'attuazione di interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno. Tra le misure previste, la prima ricerca sul campo in 48 scuole del Piemonte per studiare in modo approfondito il fenomeno delle molestie tra minori attraverso la rete, oltre all'estensione a tutta la regione del patentino rilasciato ai giovani che si impegnano a un utilizzo responsabile dei social. Il protocollo d'intesa è stato promosso dal Corecom e sottoscritto da Giunta regionale, Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale, Tribunale dei Minorenni, Garante regionale per l'infanzia e Ufficio scolastico regionale. Abbiamo finalmente raggiunto il nostro obiettivo, quello di mettere intorno al tavolo i player più importanti che si devono occupare di tutelare i ragazzi in ambito di bullismo e cyberbullismo. La prima cosa che faremo sarà cominciare con un'attività di ricerca attiva prodotta dalle Università di Torino e del Piemonte Orientale in modo da comprendere realmente qual è il punto di vista dei ragazzi in ambito di cyberbullismo. L'iniziativa è stata illustrata a Palazzo Lascaris oltre che da Alessandro De Cillis e Gianluca Nargiso, presidente e vicepresidente del Corecom, dai consiglieri segretari Gianluca Gavazza e Giorgio Bertola, dal rettore dell'Università di Torino Stefano Geuna, da Anna Rosa Favretto dell'Università del Piemonte Orientale, Ilenia Serra, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Emma Avezzù, procuratore per i minorenni presso il Tribunale di Torino, Leonardo Filippone, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, Elena Ferrara, già parlamentare e prima firmataria della legge nazionale, nonché dal consigliere Domenico Rossi, primo firmatario della legge regionale del 5 febbraio 2018. Uno dei miei ruoli sarà quello di portare all'attenzione degli altri partecipanti al tavolo tutte le informazioni e le segnalazioni relative al cyberbullismo, attuando ovviamente tramite una multidisciplinarità, un'attività di formazione e di istruzione, soprattutto nei confronti all'interno delle scuole. L'obiettivo è scientifico, quindi ci interessa molto studiare il fenomeno, capire di più e mettere a disposizione della scuola e di tutte le istituzioni, Tribunale, Forze dell'Ordine, tutte le conoscenze che possono essere utili per far fronte a questi episodi spesso così drammatici.